Si affolla l'infermeria in casa Avellino con Caric, affaticatosi in allenamento dopo una contrattura al flessore della coscia destra, è arrivato anche lo stop per Giuliano Laizza a causa di una micro frattura al mignolo della mano sinistra. In forse anche l'utilizzo di palmisano per lo stesso acciacco o corso a Caric. Fari accesi anche sulla condizione di Santiago Morero che durante gli allenamenti ha accusato un fastidio al ginocchio per lui. Si attenderà la rifinitura per capire quante possibilità ci sono di vederlo in campo. Al netto di questo bollettino medico non certamente esaltante, Mr. Ignoffo sta studiando diverse alternative tattiche e si va dal 4-5-1 al 5-4-1 passando per il classico 3-5-2 modulo preferito dal trainer palermitano. In caso di difesa 4 davanti ad Abibi ci saranno da sinistra a destra Seac, Yanes, Olaez, Azzullo e Parisi nel caso si optasse per una retroguardia più folta e Morero si rendesse disponibili alla contesa. Il centrale argentino andrebbe ad aggiungersi ai quattro già citati. In mediana vista l'assenza di Caric non convocato insieme a palmisano vedremo di Paolo Antonio al centro con Micoschi ed Alfageme esterni alti. Rossetti e De Marco saranno i due centrocampisti interni di rottura. In avanti sempre il solito Diego Albadoro che nel corso della partita potrebbe alternarsi con il transalpino Charpentier. Unica nota positiva di questa trasferta lucana per l'Avellino è la consapevolezza nei propri mezzi acquisita negli ultimi due turni che dà al gruppo Irpino la possibilità di affrontare la matricola terribile a Zeta Picerno con moderata tranquillità ed ottemismo.